Quello che vogliamo è l'opportunità di crescere. Quello che vogliamo è metterci in gioco. Quello che vogliamo è diventare qualcuno. Purtroppo questa possibilità non viene data da tutti. Ed è quindi nostro dovere impegnare tutte le nostre forze per avere un futuro migliore. Quello che facciamo qui a Flash Giovani è imparare un mestiere. Dedicarci ai progetti che più ci interessano. Con i tutor più esperti per raccontarli al meglio. Realizziamo video dove i giovani sono i protagonisti. E lo facciamo mettendo in gioco il nostro talento. Uniamo la nostra passione alla professionalità. Videomaker, copywriter, grafici. Tutti quanti ci dedichiamo al nostro portale. Con lo scopo di renderlo sempre più interessante e sempre più importante. Realizziamo servizi video. Ci dedichiamo alla comunicazione web e social. E dedichiamo cura e attenzione in ogni nostro passo. Affinché ognuno di noi possa diventare un lavoratore. Flash Giovani. L'opportunità di crescere.